Giornata di fuoco quella di ieri, la colonnina di Mercurio ha toccato i 40 gradi ad aggravare la situazione e il forte vento che con le alte temperature ha innescato diversi incendi nella zona di Belvedere e Città Giardino. Fiamme molto vicine ai centri abitati della zona nord, infatti molte le persone che dalle proprie villette e residenze hanno assistito ed effettuato filmati video pubblicati su Facebook con non pochi commenti di preoccupazione per il divampare veloce delle fiamme che si allargavano fra le esterpaglie della zona. Tantissime le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di Siracusa dal primo pomeriggio, cittadini in allarme anche per l'aria diventata irrespirabile a causa delle colonne di fumo sprigionate dai vasti incendi. Oltre al duro e costante lavoro di sei squadre dei vigili del fuoco che hanno domato gli incendi e definito la giornata di ieri una situazione tragica, anche la presenza e controllo della protezione civile, la forestale e la polizia di Siracusa, unitamente concentrati per cercare di riportare il più presto possibile la situazione in massima sicurezza, essendo le fiamme molto vicine al centro abitato e capannoni aziendali. Le zone come quelle di Città Giardino e Belvedere sono molto ricche di spazi aperti e pieni di esterpaglie, situazioni ottimali per il forte vento caldo di ieri, per far divampare incendi non facili da gestire, necessario anche infatti l'intervento di un Canadair. Mezza giornata impegnativa e preoccupante che sembra trovare un po' di sollievo intorno alle 17.45 dalle fiamme più imponenti, ma i vigili restano impegnati ben oltre per portare tutto in sicurezza. Strade bloccate per la situazione di allarme e non mancano le considerazioni dei residenti che ogni anno nella stagione estiva assistono e vivono queste giornate preoccupanti di alta tensione e si richiama sempre l'attenzione alla prevenzione e al disboscamento delle zone affinché i centri abitati di Città Giardino e Belvedere siano protetti da questi forti incendi tipici del periodo. E' nella speranza che non ci siano anche i soliti piromani che, vedendo le caratteristiche ottimali di temperature alte, a volte approfittano per innescare incendi che lasciano ingenti danni.